Il trionfo di Angela Merkel, qualcuno la chiama già la zarina d'Europa. Il voto di ieri è sicuramente stato un plebiscito per la cancelliera che viene riconfermata per il suo terzo mandato. Ma il bello deve ancora venire. La debacle della FDP fuori dal Bundestag per la prima volta nella storia repubblicana segna anche la fine della coalizione cristiano-democratica. La palla è in mano ad Angela Merkel, come ha ricordato ieri sera Fea Steinbrück, lo sfidante dell'SPD. Non azzarda previsioni sulle future coalizioni, ma in qualche modo un messaggio alla cancelliera lo ha già mandato. Noi siamo qui ad aspettare quello che fai. E allora, esclusa a priori una coalizione tra SPD, Linke e Verdi, per ora le opzioni restano quelle di una grossa coalizione. O di una coalizione, chissà, tra CDU e partito ambientalista. Noi analizzeremo oggi questo risultato elettorale con i nostri ospiti. In studio con me saluto Peter Seidel, giornalista politico della Ternstadt-Hansiger. Buonasera Peter. Buonasera. Senti, quanto ti hanno stupito questi risultati? Ma alcune cose c'erano anche da aspettarsi, come la vittoria del CDU. Però quello che mi ha stupito di più è stata la vissale sconfitta dell'ASC, che per la prima volta, come dicevi, non è stata più parte del Bundestag. Una sconfitta che ha varie ragioni, tra le quali la mancanza totale di un personaggio molto popolare, come una volta lo era Gencher, per esempio, e anche il bassissimo profilo che, tutto sommato, i liberali hanno avuto nei passati quattro anni in governo. Grazie Peter per questa breve battuta. Noi continuiamo a parlare delle lezioni dopo questo breve sacco musicale. Senti, quanto ti hanno avuto nei passati quattro anni in governo. Senti, quanto ti hanno avuto nei passati, Senti, quanto ti hanno avuto nei passati, Senti, quanto ti hanno avuto nei passati quattro anni in governo. Non puoi sentire che Niente si è cambiato dopo il cuore che ho strappato via da te Non sento di non morire con sola Niente si è cambiato dopo il cuore che ho strappato via da te Niente si è cambiato dopo il cuore che ho strappato via da te Senza di noi ci vuole più solo agli fiume e niente altro ancora Se a gente non appresta il tempo, questa testa ne affasca Se questo mondo è un altro per trovare un'idea Adatto al nostro spazio ogni giorno più stretto Se il tuo angelo rispondi tutti dentro d'un cassetto Ed ecco perché stai ora ricordo il tuo cuore Se il tuo angelo rispondi tutti dentro d'un cassetto E ha polverizzato i liberali In lieve aumento la SPD che però non arriva al risultato che si era prefissato In calo Linkeverdi e in ascesa la novità di questa tornata elettorale L'alternativa per la Germania Partito anti-euro che però non entra al Bundestag Il giorno dopo il voto nel servizio di Cristina Giordano Grazie a tutti Il giorno per favore Siamo pagando nel gloware Grazie a tutti E gonna autentrott? Sogテieni E ci س�� parfois un 2020 und chicken condividono Questa abbiamo più Ma Pois Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. L'8,5% dei tedeschi ha scelto invece la Linke, che così diventa la terza forza politica del paese, Gregor Viti. Ora la palla passa alla Merkel e a lei che spetta la ricerca di un possibile alleato di governo. La grande coalizione sembra lo scenario più probabile. Ma se ieri sera Steinbrück e i compagni avevano preso le distanze dell'esperienza di più da otto anni fa, oggi è una telefonata della Merkel, proprio Steinbrück, e anche la Merkel. Anche la Merkel. Grazie a tutti. 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 Il 28% della gente non ha votato, quindi il partito dei non votati è di nuovo il secondo partito in Germania. Penso che tutte queste persone non si aspettano più nulla dalla politica in Germania, quindi sono persone che non stanno economicamente bene e quindi non vedono una ragione per andare a votare. Altro dato importante è questo crollo dei liberali. Da cosa è stato determinato secondo te? I liberali, come avevo già accennato, nei quattro anni di governo non sono riusciti a dare proprio una impronta liberale alla politica di governo in Germania. Non sono riusciti bene ad abbassare le tasse come promettevano all'inizio nel 2009. Non sono riusciti a mantenere a bada i cristiani sociali in Baviera con i loro progetti in materia di politica familiare, il cosiddetto Betreuungskjeld. Non sono riusciti a bloccare questo e appunto anche su livello personale non avevano più i personaggi di una volta. C'è poi una novità, anche se non sono riusciti a superare la lasticella del 5%, c'è comunque l'ascita di un partito anti-euro, Alternative per Deutschland. Ne sentiremo secondo te parlare ancora? Sì, certamente. L'Alternative per Deutschland si ripresenterà alle elezioni nei diversi Länder che vedremo. E' praticamente un dato scontato che se continuano così a approfittare della crisi dell'euro e della crisi economica, soprattutto nel sud dell'Europa, entreranno in vari parlamenti dei Länder. E poi adesso si iniziano a fare le varie ipotesi di coalizione, la più plausibile è la grossa coalizione con i socialdemocratici, ma chissà numericamente, almeno numericamente, sarebbe possibile anche una coalizione tra Unione e Verdi. Con i Verdi anche se sono molto ridimensionati, tu come la vedresti? I Verdi si guarderanno bene ad entrare in coalizione con i cristiano-democratici in Germania, perché tutto sommato i loro programmi sono molto diversi. I Verdi adesso cercheranno di riconcentrarsi sulla loro identità di partito politico, quindi cercheranno di darsi un profilo molto più alto di quanto è successo, soprattutto in campagna elettorale, in materia di politica per quanto riguarda l'Energivende in Germania, per esempio. Tutto questo non funziona bene con una CDU o al governo. Grazie Peter, noi continuiamo dopo una breve pausa musicale a parlare di quello che significa questo voto per l'Italia e l'Europa. E' un secolo che piove in questo buco di città, scoppia di rimpianti e di arroganza di guidana. Anche tu in ostacolo di una lunga del piume, io offro il mio coraggio, ma questo piatto tocca a te. Enchi dietro il mio coraggio, quello lì davanti a te, cambierai l'appello, ma resta a rispettare non fissare via. In questo inferno di ombre piatti, un colto vecchio, una pace Resta di bello, non vivo da via Prendi una chitarra e qualche dose di follia Come un'amicaia, tutta un fuoco e poesia L'arma è a doppio taglio, ti potrai sperire un po' Non avrai una figlia, ma stai meglio Non toccherò bene, è un rilevito interventene Quella vita davanti a te Cambierai la pelle, ma resta aspettare di buttare via In questo inferno di ombre piatti, in questo vecchio, una pace E noi continuiamo a commentare i risultati di queste elezioni Al telefono con noi da Berlino abbiamo Sergio Nava, inviato di Radio 24 Buonasera Buonasera Sergio, come hai vissuto queste elezioni? Innanzitutto è la prima volta che ho coperto delle elezioni in Germania E devo dire che è stata comunque un'esperienza assolutamente interessante Proprio anche nelle differenti meccanismi Ci sono rispetto alle elezioni italiane Anche nella blog che ho riscontrato Nel buono, per esempio, qua alla fine Condotte queste elezioni I risultati così prezzo alle 18 I leader che vanno tutti insieme a commentare in televisione E poi comunque in modo molto selvato Con grande curiosità Tanno annunci Insomma, è qualcosa che noi siamo esistenti Molto abituati in Italia Dove è tutto molto più spettacolarizzato Senti, con Merkel vince anche una Germania Posta vivendo una buona cultura economica Merkel diceva alle discute Tutto è buono, continuiamo così Ma secondo te ha vinto anche il Sud Europa in crisi con queste elezioni? Secondo me non molto Nel senso che Angela Merkel comunque è rimanato un buon Contimoniere Senti, non sei stato un contimoniere In questa crisi europea Con questa capacità di andare Proverso il problema in modo molto rigoroso A di più da scienziata Però se andiamo poi un po' alla pancia del Sud Europa Chiaramente quella pancia che guarda la Germania Come a un paese che ha imposto l'ossidità Beh, quella pancia aperta se vogliamo Perché comunque va detto Anche in Italia, una vasta fetta della popolazione Che veramente recrimina contro la politica Che anche la Merkel di austerità Forse è stata evidente portata un po' In certi casi all'eccesso Forse l'agenda tedesca a volte ha prevalso Su quella europea Questo l'ha anche detto Però per quanto anche la Merkel dice Fate le riforme come le abbiamo fatte noi in Germania Dieci anni fa Dice una cosa secondo me assolutamente giusta E però non viene compresa da molti in Italia Perché in Italia purtroppo Sotto c'incipita Non so, c'è città di riforme C'è una parte del paese che non le vuole Una buona parte del paese che non le vuole Perché infatti è stato suo E rendite di posizione Eppure la Merkel ha sfiorato La maggioranza assoluta E dovrà quindi scendere a passi Come era abbastanza prevedibile Con la SPD O chissà Forse con i Verdi Ti aspetti più flessibilità verso l'Italia In vista di un governo di grande coalizione? Ma è abbastanza relativo Soprattutto se l'altro partner sarà Nel Sede enormi differenze di veduta rispetto all'Angela Merkel In parte anche perché Chiunque sarà l'alleato di governo Avrà un potere comunque abbastanza inferiore Parecchio inferiore Sarà un junior, ma molto junior Di questo governo Dove si sarà spradominato Dai conservatori di Sedevo stesso Sinceramente io non mi aspetto Grandissimi cambiamenti Nei confronti anche dell'Italia Anzi vedo una Germania parecchio preoccupata Dell'instabilità politica in Italia Che non capisce giustamente Com'è possibile che un paese Sta affrontando un periodo di crisi difficile E riesca anche a concedersi il lusso Di dibattere sull'eventualità Di una crisi di governo Legata alle sorti personali Di un leader di partito Che era altro condannato In via definitiva Insomma Cerco di mettermi nella prospettiva tedesca E faccio partita A comprendere io stesso Quello che succede in Italia Quindi difficilmente ci saranno Grandi cambiamenti Una domanda per Peter Seidel Invece Angela Merkel Dopo anni in cui ha gestito La crisi economica Ha mostrato anche una grande abilità A conoscere A capire gli umori Del suo elettorato Eppure non ha dimostrato Di avere una vera propria Visione politica Una visione politica anche europea Pensi che con questo nuovo mandato Riuscirà a darsi Una sorta di identità politica Più definita? Ma per quanto riguarda Le visioni politiche Angela Merkel Proprio non è il personaggio Che ne ha Penso che Ha capito bene Che in molti paesi europei Ormai c'è una buona prontezione Per dare più competenze di nuovo Ai parlamenti nazionali E quindi molte cose che finora sono state decise A Bruxelles Magari tra qualche anno Le si ridarà ai vari paesi membri Dell'Unione Europea Del resto Per quanto riguarda La situazione finanziaria E economica In Europa Non penso che Vedremo grandi cambiamenti Perché secondo lei E secondo il suo partito Finora Siamo andati bene Come ha detto Ha ripetuto la Merkel Durante la campagna elettorale Grazie Petra Seidel Io ringrazio anche Sergio Nava Da Berlino Buona serata 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 Buona serata